18 positivi al Covid nella Triestina dopo il giro di tamponi molecolari alla vigilia della ripresa della stagione agonistica. È un fulmine a ciel sereno, quello che colpisce la squadra di Bucchi, che dovrà saltare il match contro la Juventus Under-23 in programma il 9 gennaio. Già la Triestina aveva visto rinviare la partita contro il Sud Tirolo lo scorso 15 dicembre, quando era arrivata la notizia di casi di positività, ma nella squadra avversaria. Dunque si prevederà un altro recupero anche per la partita contro la Juventus Under-23. Dei 18 positivi, 11 sono giocatori, 7 componenti dello staff. A dare la notizia dei casi di coronavirus è stata la società stessa, con un comunicato sul proprio sito e attraverso i social. Si comunica, si legge nella nota, le riscontrate positività al Covid di 18 elementi, tutti regolarmente vaccinati. In osseguio alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del protocollo FIGC, tutti i tesserati sono stati posti in isolamento domiciliare. I giocatori negativi riprenderanno l'attività in forma individuale almeno fino al prossimo 2 gennaio, sottoponendosi a tampone molecolare ogni 48 ore. In considerazione del quadro venutosi a creare, conclude il comunicato, la Surgi ritiene necessario sottoporre il gruppo squadra quarantena, prescrivendo il divieto di disputa della partita di campionato in programma il prossimo 9 gennaio.